Questo è l'ultimo posto in cui il suo smartphone ha agganciato una cella telefonica. Siamo incontrata a Filaro Rodriguez, poco lontano dalla statale 7 Brindisi-Mesagne. All'orizzonte si intravedono il centro commerciale Le Colonne e l'ospedale Perrino e proprio da lì pare, aprendo lo sportellone di un'ambulanza, che un ragazzo 28enne di Fasano è fuggito a piedi mercoledì sera poco prima di essere ricoverato. Le ricerche sono partite nel primo pomeriggio di giovedì con l'unità di comando locale dei vigili del fuoco di Brindisi che è stata inviata a coordinare le operazioni di soccorso nel piazzale del centro commerciale. Le ricerche sono state effettuate da personale TAS, topografia applicata al soccorso, e da nucleo operativo Dedalo munito di strumentazione che consente di isolare e individuare via terra un cellulare anche in assenza della normale copertura telefonica. Punto di partenza, proprio questa zona di campagna nella quale si trovano soltanto un paio di ville. A supportare l'operazione un elicottero dei vigili del fuoco giunto da Bari e una pattuglia dei carabinieri di Brindisi. Nel pomeriggio sono arrivati anche Cico e Molli, i due cani molecolari specializzati nella ricerca di scomparsi. Il padre del ragazzo ha seguito le operazioni di soccorso a bordo dell'unità mobile dei vigili del fuoco che ha continuato a tracciare la mappatura delle zone battute senza esito. Nel pomeriggio in prefettura è stato attivato il piano provinciale per la ricerca di persone scomparse con il coinvolgimento di tutte le forze di polizia e dei volontari della protezione civile e della Croce Rossa. Non sono state diffuse dalla prefettura e dalla famiglia né foto né generalità dello scomparso e nemmeno la descrizione di ciò che indossava quando è stato visto per l'ultima volta.